Buongiorno, benvenuti. Questa è la segna stampa di oggi, 27 giugno. Mi sembra che sia... Cos'è, mercoledì o giovedì? Insomma, quando non c'è Matrix non si riesce bene a capire i giorni. Allora, la cosa fondamentale di oggi, che a me è molto divertito, è che a leggere i giornali di oggi tutti quanti i grandi giornaloni, gli editorialisti, quelli che le pensano giuste, invece di occuparsi del governo, delle cose giuste o sbagliate che ha fatto, di che si occupano? Di quello che dovrebbe fare l'opposizione. Cioè, i giornali che fino a ieri ci hanno tanto coccolato l'opposizione, sono figli questi giornali dell'opposizione, perché i loro rapporti sono certamente molto più col PD e con Forza Italia di quanto lo siano con Salvini e con Di Maio, due classi dirigenti che i giornali non conoscono, non frequentano e odiano. Si occupano dell'opposizione, si occupano delle posizioni in maniera ridicola. Oggi Ernesto Galli della Loggia, che forse ha fatto danni al movimento liberale e anche quello democratico più di qualsiasi altro intellettuale in Italia, perché è una persona intelligente ed è sempre stato considerato una persona di grande peso, dice delle cazzate che dimostrano quanto lui veramente, a proposito dei leitmotiv di questi giorni, sia sconnesso dalla realtà. Forse un po' troppo nelle università, un po' troppo intelligente e un po' troppo lontano dalla realtà. Che cosa dice? Il partito di sinistra si deve rifondare, deve cercare di avere una nuova identità, deve diventare un partito comunque che non rinunce e che dimostri la sua cristianità e poi al punto 5, favoloso, e lì mollo la lettura di Galli della Loggia, perché oggi se non si scrivono 200 righe sei uno sfigato, beh, insomma, cosa scrive sul Corriere della Sera? Bisogna fare la patrimoniale. Cioè il partito di sinistra, secondo Galli della Loggia, deve fare la patrimoniale. Bravo Galli della Loggia, io ti candiderei segretario del PD, perché in questo modo tu, segretario del PD, faresti azzerare completamente l'esistenza del PD e manderesti al governo anche i più cretini di questo governo per i prossimi 5.000 anni. Questa è l'idea di Galli della Loggia. Un po' più sofisticata, un po' più aderente, come possiamo dire, alla realtà, l'analisi che fa Calenda in una pagina mostruosa di piombo, oggi sul foglio. Anche qui l'Italia è caduta in un incrocio tra sovranismo e fuga dalla realtà. La parola chiave è fuga dalla realtà, per Galli della Loggia, che dice che siamo lontani dalla realtà, e per Calenda, solo loro conoscono la realtà. Alleanza Repubblicana propone Calenda. Anche in quel caso Calenda mi sembra un po' troppo pariolino, se mi posso permettere, un po' troppo abituato a essere, come possiamo dire, coccolato alla niene o al parioli, che ragionare su quello che vuole la gente. Ma quando lui parla di fuga dalla realtà, il 90% delle persone reali, carne, viva, che vive, che gioca, che beve, che va in macchina, che è arrabbiata e che è contente, che ha le sue soddisfazioni, caro Calenda, cioè la realtà, è che questo governo, nel segnale che sta dando sull'immigrazione, piace molto più di quello di cui hai fatto parte tu, nonostante la buona realtà dei messaggi che tu hai dato da Ministro dello Sviluppo Economico. Se questa roba qua non ti entra nella capoccina, Calenda, il partito sarà uguale a quello di Galli della Loggia, del 3, 4, 5, 6%, perché oggi il pezzo migliore sulla sinistra lo scrive Ricolfi, in cui dice, troppo tardi per salvare questa sinistra. È andata, è persa, è fuori dalle realtà, come lo è Calenda, come lo è Galli della Loggia, e secondo me, a mio modesto avviso, come non lo è Ricolfi, che da dieci anni sta spiegando che la sicurezza non è un tema del cavolo, ma è un tema forte, non è il problema del sovranismo, è le risposte che il sovranismo dà a delle esigenze vere. Il secondo capitolo, diciamo, di questa seduta psicoanalitica dei partiti politici, sempre sul Foglio, che è un giornale molto divertente, la fa Antonio Martino, e voi sapete che quando parla Antonio Martino io sono in fila a leggere, e fa un pezzo stupendo, un'intervista stupenda che gli realizza Salvatore Merlo, uno di quelli che scrive bene sul Foglio, in cui dice, Berlusconi risponde a una lettera che ha fatto ieri un giovane parlamentare di Forza Italia, Ruggeri, che dice, datti una mossa Berlusconi, perché qua con i vecchi non andiamo da nessuna parte, e Martino gli dice, ha ragione Ruggeri, caro Berlusconi, dai un colpo d'ala, qua la classe dirigente di Forza Italia mi sembra tutta senza grinta, quando chiamo, dice Martino, neanche mi ripassano il Cavaliere, perché è corteggiato, è immerso in una corte che non lo fa parlare con i suoi vecchi amici. Ricolfi dice del partito di Martino e di Berlusconi, in realtà purtroppo c'è anche per il partito del centrodestra poco da fare, perché è culturalmente vecchio, senza guida e senza una possibilità di rimedio. Questo non lo crede Martino, perché dice che Berlusconi può dare un colpo d'ala, non lo so se questo può avvenire, ormai mi sembra anche a me un po' tardi, ma insomma i temi fondamentali della giornata sono quelli inesistenti delle opposizioni, mentre mi sembra molto più debole l'opposizione sui temi esistenti, cioè su cosa sta facendo il governo. Bene sull'immigrazione, ci sono pochi diavoli, pochi cavoli, oggi Fubini, ma con lui tutti quelli che dicevano che Salvini aveva detto una cazzata sull'immigrazione, i poveracci che non venivano saltati dal mare, oggi Fubini scrive che il prossimo vertice di Bruxelles con i 28 paesi dell'Europa, non viene fatto sulle stronzate solite con cui vengono fatti i vertici di Bruxelles, ma sapete perché cosa? Per il tema immigrazione voi direte il solito vertice di Bruxelles, ma sapete qual è il problema sostiene Fubini? Che il vertice di Bruxelles deve salvare la Merkel, e sapete perché deve salvare la Merkel? Perché all'interno dell'alleanza di governo c'è anche la CSU, un partito democristiano della Baviera che respime un ministro degli interni che cosa dice? Non vogliamo gli immigrati in Germania, che peraltro secondo Fubini sono stati 5.000, 6.000 i respingimenti alle frontiere tedesche, quindi niente rispetto ai nostri 120.000. Allora io chiedo a Calenda, a Galli della Loggia, ai Fenomeni, a Fubini, ma se la stessa Germania che non ha la nostra pressione migratoria ha un problema politico per cui il ministro degli interni della CSU, cioè un democristiano bavarese, è furibondo con la Merkel per i suoi atteggiamenti nell'immigrazione. Veramente dobbiamo tutti noi pensare che siamo fichi? È il vero problema, caro Calenda, caro Fubini, caro Galli della Loggia, cari opinionisti, non sono gli immigrati? E tutti quanti questi ministri, queste persone, questi democristiani, questi fascistoni, secondo voi, questi nazisti, secondo voi, sbagliano tutti? Oppure il problema dell'immigrazione, cari giornalisti, voi non ci avete capito nulla negli ultimi dieci anni, e avete considerato quelli che parlavano di immigrazione, di neri, di famiglia, soltanto dei populisti sovranisti che guarda caso oggi ci comandano, e questi sarebbero fuori dalla realtà. Voi siete fuori dalla realtà. Voi, voi burocrati europei, voi giornalisti che non avete colto, voi trasmissioni che facevate le fichette come se l'immigrazione non ci fosse, questa roba c'è, fuori dalla realtà sono quelli che si facevano le pippe, quelli che stavano fuori a immaginare che l'immigrazione non fosse un problema, a immaginare fuoco a mare, a immaginare che la sindaca di Lampedusa venisse portata ad Obama a fare tutte quelle pippe buoniste per cui ci avete rotto le balle per vent'anni, adesso vi beccate Salvini. Chiaro? E se non ci fosse Salvini ci sarebbe il ministro degli interni della democrazia cristiana bavarese che stiamo parlando di un signore che certo non può essere definito un razzista. ieri c'è stato l'incontro la cena segreta tra Macron e Conte e l'altra cosa che mi fa impazzire del giornalismo italiano. Titoli dei giornali cena segreta tra Macron e Conte. Porca puttana! Ma sei sulle prime pagine dei giornali cosa ha di segreto questa cena? È telefonata, ci hanno detto guarda che oggi Conte si è vinto. Casalino avrà chiamato i giornalisti guarda che c'è stato un incontro segreto tra Macron e Conte perché qual è il messaggio che si vuole dare? Il messaggio che si vuole dare è che il premier Conte sta trattando in Europa non è isolato in Europa è il classico voglio dire mentre i giornali fanno i fenomeni contro questo governo eccetera dall'altra vengono come possiamo dire portati con le brigliette così da Casalino e dagli uffici stampa che gli fanno titolare guarda che si è visto con Macron non lo dire perché è una cena segreta e noi ci titoliamo prime pagine dei giornali c'era segreta ma segreta da che? Ci sono in retroscena che dicono pure quello che si sono detti questi due ci sono visti la cena c'è stata segreta no va bene? E qua dall'idea così Conte prende una posizione diversa rispetto a quella di Salvini tutte minchiate tutte minchiate Nino Di Matteo che è quello che si è inventato un'altra minchiata e questo è il termine giusto per l'attratativa stato-mafia per cui è stato condannato il generale dei Carabinieri Mori in primo grado una cosa incredibile ricordatevi che quello del paese è la zona in cui venne condannato Contrada quindi una roba assurda ma insomma andiamo avanti Di Matteo è il mito del Movimento 5 Stelle ci sono due letture oggi su Di Matteo quella di Peppino Sottile sul foglio oggi il giornale molto azzeccato in cui dice Di Matteo l'hanno mollato il Movimento 5 Stelle doveva fare il ministro non l'ha fatto il sottosegretario non l'ha fatto il ruolo di Falcone all'interno ministro di giustizia e non glielo fanno fare il capo delle carce il DAP e non glielo fanno fare quindi il Movimento 5 Stelle ha usato questa bandierina che poi ha non utilizzato mi diverte pure che Sottile ricorda come ha avuto Di Matteo la cittadinanza onoraria in 120 città italiane fantastico l'altra invece lettura è quella del fatto che in prima pagina dice attenzione tutti i boss mafiori del 41.000 bis sono tutti che se la fanno sotto così e perché? perché arriverà Di Matteo capo delle carce e noi non usciremo più vorrei segnalare che il 41.000 bis non li fa uscire più che l'ergastolo ostativo non li fa uscire più e che quindi non c'è bisogno di Di Matteo per non fargli uscire più certo uno potrebbe pensare di cambiare la legge ma non è certo il capo del DAP che decide come e quando cambiare quella legge ma semmai i ministri la cosa mi sembra così costruita alla casalino sulla cena segreta che sembra dire il fatto quotidiano su ispirazione diciamo di Di Matteo e di quelli di Entourage là attenzione fatelo capo delle carceri perché lui sì che combatterà la mafia anche da capo delle carceri vabbè staremo a vedere bellissimo il pezzo di Vietti di oggi sul riscaldamento globale perché sono passati 30 anni c'era un pezzo su vostri giorni nei giorni scorsi da quando uno scienziato si presentò al congresso americano dicendo in quel agosto in quel luglio caldissimo fa caldo un grado di più rispetto agli anni scorsi e ci sarà il global warming e da lì è iniziato l'IPCC il global warming le politiche per contenere l'aumento del CO2 che invece è aumentato beh dopo 30 anni qual è il bilancio e che secondo le previsioni fatte 30 anni fa dallo scienziato che ha portato il global warming all'interno dell'agenda fondamentale del dibattito politico bene passati 30 anni non si è verificata nessuna delle previsioni catastrofiche che Hansen cioè lo scienziato aveva previsto 30 anni fa ma noi continuiamo a pensare che non sia da mettere in discussione il global warming invece è da mettere in discussione il decreto legge che verrà presentato domani con il titolo alla Renzi o sapete quei titoli ormai dei decreti legge il decreto legge e dignità come se la dignità potesse essere conferita per decreto legge una di quelle cose delle illusioni che ti fanno veramente rivoltare lo stomaco su questo forse un'opposizione seria potrebbe fare l'opposizione ma lo puoi chiamare dignità a un decreto ma il problema è che l'opposizione aveva chiamato i suoi decreti sia quelli di destra sia quelli di sinistra con titoli tanto altisonanti che non si sono mai verificati e ricordate quando dato un titolo a un decreto così alto e poi non si ottengono quei risultati che si vogliono ottenere ovviamente ci si sputtana cosa che ovviamente avverrà con questo inutile decreto legge che cosa fa? rende più difficili i contratti a tempo fa delle multe alle imprese che delocalizzano che non verranno mai multate ci mettono le mani sul fuoco e poi ci sarà un rinvio della fatturazione elettronica per i banzinai e tante altre cosette diciamo che è un mix di semplificazioni e di giustizialismo finanziario e fiscale il senso che questo potrà dare una svolta all'economia è pari a zero ti può più o meno piacere però la cosa certa e che anzi ridurre i contratti a termine e pensare di mettere nuove norme burocratiche per stabilizzare persone che le aziende se non le vogliono stabilizzare non c'è legge che gliele farà stabilizzare è una follia nel frattempo dai miei amici della Confartigianato Di Maio si è speso per l'introduzione dei dazi anche in Italia per la difesa del Made in Italy e andiamo bene la cosa più cagasa la cagata più grossa di Trump cioè i dazi adesso ce li vogliamo portare anche in Italia che ovviamente non li può fare perché facendo fino a prova contraria a parte dell'Unione Europea i dazi da sola non li può mettere noi ci vediamo domani con la zuppa di porro vi faccio leggetevi il pezzo straordinario che vi ha mandato un finanziere sul sito nicolaporro.it sull'evasione fiscale che è in questo momento online e vi do appuntamento come sempre appunto a domani condividete se vi piace ciao ciao